Ciao a tutti, in questo video vedremo come acquisire dati da sensori e da una videocamera connessi ad una Raspberry, utilizzeremo CircuitPython, vedremo come salvarli su Firebase RealtimeDB, su Firebase Storage, su Google Drive Spreadsheet e creeremo una semplice dashboard Angular per visualizzarli. Tutto quello di cui parleremo è alla base della creazione di semplici sistemi casalinghi o a livello hobbistico per, ad esempio, videosorveglianza, gestione di termostati o automatismi di ogni genere. Mi chiamo Fabio Biondi e mi occupo principalmente di formazione front-end. Per questo motivo metto le mani avanti, non sono un esperto di Python e neppure di IoT. Qualunque cosa dirò in questo video non potrà essere utilizzata contro di me. Spero comunque vi sia utile per comprendere alcuni concetti o semplicemente darvi un'ispirazione per creare qualcosa di vostro. I topic, gli argomenti di cui parleremo in questo video sono moltissimi, quindi vedremo come connettere una Raspberry con Visual Studio Code, vSSH, parleremo di CircuitPython e di Blinka per utilizzare Python all'interno di una Raspberry e connettere sensori, OLED e molto altro. Vedremo come utilizzare la Raspberry Camera e come salvare tutti questi dati poi su Google Spreadsheet, Realtime DB e Storage di Firebase e creeremo una piccola dashboard in Angular. Per la demo ho utilizzato una Raspberry 3, ma i concetti sono gli stessi che potremmo applicare anche su altri tipi di microcontroller o single board computer. Ho anche usato una scheda di espansione e una breadboard per evitare di attaccare i cavi direttamente alla Raspberry, quindi per semplificarmi poi la gestione dei sensori, del display OLED e così via. Questa foto mostra l'hardware e i sensori connessi che utilizzeremo in questa demo. Una telecamera, quindi una Raspberry Camera, un sensore BMP 180 per l'acquisizione di temperatura, altitudine e pressione e un display OLED. L'Ultrasonic Sensor invece non è utilizzato in questa demo, ma lo utilizzeremo poi successivamente in qualche altro video. Vediamo come configurare innanzitutto l'ambiente di lavoro. Innanzitutto dobbiamo scaricare l'ISO di Raspberry OS e installarla tramite un tool chiamato Raspberry Pi Major direttamente nella SD card che poi inseriremo all'interno della Raspberry. Questi tool sono disponibili sul sito Raspberry ufficiale. Ora potremo connettere una tastiera e un mouse e ovviamente un monitor alla Raspberry, installare un editor, un IDE, ma qual è il problema? Che girerebbe tutto molto lentamente. La soluzione migliore a mio avviso è quella di sviluppare all'interno della Raspberry ma dal mio Mac, dal mio computer, connettendomi da remoto e come lo faremo via SSH. Per farlo però dobbiamo innanzitutto abilitare sia SSH che la Wi-Fi nella mia Raspberry che di default sono ovviamente disabilitate o comunque non configurate. Una volta installato il sistema operativo nella SD card inserita nella Raspberry quindi potremo effettuare un'operazione ovvero connetterci via VNC che è già installato su Raspberry OS tramite l'IP della Raspberry e lo potremo fare quindi da un altro PC, da un altro Mac. Possiamo usare l'IP oppure RaspberryP.local che è un alias. Dato che la Wi-Fi non è ancora stata configurata sulla Raspberry non posso collegarmi via VNC quindi potremo inizialmente, come dicevo prima, utilizzare una tastiera esterna, un monitor e fare quest'operazione oppure eventualmente connetterla alla LAN della vostra casa, del vostro ufficio. Io ho preferito quest'ultima. A questo punto la mia Raspberry connessa alla LAN avrà un IP, mi posso connettere via VNC tramite quell'IP e avviare il terminale. Con il comando raspi.config possiamo accedere a una configurazione della Raspberry e tramite interface options e successivamente SSH possiamo abilitare questa feature. Sempre da queste schermate in system option possiamo anche abilitare e inserire l'SSID e la password della vostra Wi-Fi. Ora, abilitando queste due feature possiamo accedere alla Wi-Fi direttamente alla Raspberry, scusatemi, direttamente tramite Wi-Fi. Quindi, quello che vogliamo fare adesso è connettere Visual Studio Code del nostro Mac PC alla Raspberry. Con l'obiettivo quindi che da Visual Studio Code si possa direttamente lavorare ad una Raspberry esterna. Innanzitutto dobbiamo installare un'estensione di Visual Studio Code che è a Remote SSH e successivamente connetterci all'host. Quindi qui inseriremo l'IP della Raspberry. Quindi potremo usare il nostro PC, il nostro Mac, per connetterci direttamente alla Raspberry. Questo vuol dire che dal mio Mac io apro Visual Studio Code e come vedete posso avere a sinistra direttamente il file system della Raspberry e a destra il terminale che mi mostrerà la stessa cartella. Quindi posso lavorare sul mio Mac come se fossi invece sulla Raspberry. Ma parliamo di Python. Come ho detto mi occupo principalmente di front-end ma in questi mesi per vari motivi ho studiato e sperimentato molto con Python soprattutto nel mondo embedded con Raspberry, ESP32 e così via. Comunque sappiate che non è il mio forte, se mi conoscete sapete che mi occupo principalmente di Angular, React, TypeScript, RxJS e così via. Quindi qualcosa che potrebbe essere scritto in queste slide magari non sarà regola d'arte. Spero comunque vi possa essere utile o comunque semplicemente di ispirazione. Passiamo a CircuitPython. In questi mesi ammetto di aver utilizzato molto di più MicroPython che è semplicemente un firmware che possiamo installare ad esempio su un ESP32 o diversi altri microcontrollori e mi funziona, mi dà delle funzionalità utili per lavorare con i microcontroller, quindi accedere ai sensori, a diversi dispositivi, al Bluetooth, alla Wi-Fi e così via. Tra l'altro è molto leggero rispetto a Python e quindi ha consumi energetici inferiori, richieste di performance ovviamente inferiori, visto che girerà su dei microcontrollori che hanno ovviamente poca potenza. Perché quindi siamo su CircuitPython? Perché semplicemente ho trovato che MicroPython sia meno solido e diciamo meno aggiornato per quanto concerne le librerie rispetto a CircuitPython, dove invece abbiamo un unico interlocutore che è Ada Fruit, un grosso vendor che distribuisce hardware e software, che mantiene questo progetto. E trovo che molte di queste librerie siano scritte meglio e siano decisamente più stabili. Come vediamo da questa slide, CircuitPython è un linguaggio di programmazione realizzato per semplificare, sperimentare ed imparare in modo semplice il coding su dei microcontrollori low cost. Tuttavia dovremo installare Blinka nella nostra Raspberry, che è una libreria che ci permette di utilizzare CircuitPython anche sui single board computer, definiti anche SBC. Un single board computer è solitamente un computer che ha sicuramente più potenza rispetto a un microcontrollore, che invece solitamente fa girare solo un programma ripetutamente e non invece un intero sistema operativo come possiamo fare sulla Rasp. ovviamente i single board computer sono molto più costosi, Raspberry ad esempio potrebbe costare dai 70 ai 150 euro, un Raspberry 3 o 4, ovviamente ci sono anche Raspberry meno costose. Un microcontroller come l'ESP32 può costare invece 3, 5, 7 euro. Quindi ovviamente c'è una bella differenza e ovviamente che consuma molto meno energia un microcontroller. Quindi questo da valutare. Comunque installando Blinka, e vedremo tra poco come, possiamo semplicemente utilizzarlo nella Raspberry. Per farlo possiamo seguire le indicazioni del sito Blinka, che ci indica semplicemente che con un comando vget possiamo scaricare l'intero pacchetto. E dopodiché utilizzare il comando, lo script Raspi Blinka per installare e configurare l'intera libreria. Possiamo anche utilizzare uno script Hello World fornito con la libreria in fase di installazione che è utile per verificare che tutto funzioni correttamente. Lanciamo questo Hello World e vedremo che tutto va a buon fine, o almeno si spera. Ma parliamo proprio di hardware. Una volta installato Blinka possiamo passare quindi alla gestione dei sensori, degli OLED e così via all'interno della Raspberry e al relativo codice Python che servirà per farlo funzionare. Innanzitutto la Raspberry, un po' come tutti i microcontroller o i single board computer, hanno una serie di PIN, ognuno con delle funzionalità. Due di questi PIN servono al funzionamento del Serial Communication Protocol, detto I2C. I2C è un bus che è utilizzato per sincronizzare dati tra diversi dispositivi o sensori ed è composto sostanzialmente da due linee. SDA che sta per data, DA sta per data, e SCL che sta per clock. SDA è la linea dei dati. SCL è la linea cosiddetta clock. Il clock è un segnale periodico utilizzato per sincronizzare il funzionamento di diversi dispositivi elettronici e metterli in comunicazione. Ci tengo a precisare che I2C è sicuramente un sistema molto più lento, molto lento diciamo così, e non mi permette di avere molte performance, però per quello che dobbiamo fare in questa demo va più che bene. Eventualmente esiste un'alternativa di collegamento che è SPI, che richiede più PIN, però diciamo che per questa occasione possiamo tranquillamente utilizzare questo. Comunque alcuni device come il sensore di temperatura o lo LED che andremo appunto ad utilizzare, utilizzano questo bus per comunicare, ma necessitano anche di un terzo cavo e di un quarto cavo, uno collegato alla massa, GND, quindi il ground, e l'altro all'alimentazione che appunto vediamo qui come 5V Power. In altri casi potremmo utilizzare invece anche i PIN GPIO che sta per General Purpose Input Output e che servono spesso per connettere questi microcontroller o single board computer a LED, motori, servi e inviare comandi. Bene, arriviamo al codice. Un po' come per Arduino e CI, lo script Python principale è un ciclo continuo. Che permetterà quindi di acquisire costantemente i valori dai dispositivi ed eventualmente inviare azioni. Per evitare di ripetere questa operazione troppo spesso inseriamo uno slip di un secondo che in sostanza sospende l'esecuzione del ciclo per un determinato lasso di tempo per evitare ovviamente che venga invocato troppo spesso. Come vediamo qui in alto ci sono una serie di import a dei miei script che servono a semplificare il codice che troveremo in questo ciclo. Ovviamente invece di scrivere tutto il codice per intero dentro questo while l'ho suddiviso in diversi script. Uno per la gestione del sensore di temperatura, un altro per la scrittura del display OLED, uno per Firebase, uno per lo Google Express Sheet e l'altro per la telecamera. Quindi ora in questa demo vedremo proprio come gestire l'autenticazione Firebase, leggere dati da sensori, scrivere su un OLED, scrivere su Firebase Realtime DB, su Google Spreadsheet, acquisire una foto dalla telecamera e salvare questo snapshot su Firebase Storage. E manca in questo slide anche come visualizzare i dati su Angular, su un'applicazione Angular. Iniziamo dal BMP 180 che è un sensore che ci permette di acquisire temperatura, pressione e altitudine da appunto una nostra A, da questo sensorino. Non è tra i più precisi, è anche un po' datato ma è molto semplice da utilizzare e è poco costoso. Parliamo di pochi euro. Ad ogni modo è il primo elemento esterno che collegheremo la Raspberry tramite il bassi i2C che sono i cavi celeste e di colore giallo. Mentre poi dobbiamo collegare la massa con il cavo nero e l'alimentazione con il cavo rosso. Vediamo che ho creato quest'utility che mi permette di acquisire i dati da il sensore e ho creato una semplice utility get data che utilizza la libreria di Adafruit BMP 085 per leggere la temperatura. Una volta acquisiti questi dati li prendo e li restituisco come oggetto che saranno utilizzati poi all'interno del ciclo while. Una piccola nota, questa libreria è scritta in Python 2, utilizzo la versione 3 quindi ho dovuto riscriverla e convertirla per utilizzare Python 3. Ho ancora qualche problema sulla pressione ma ai fini di questa demo, di questo video non è importante quindi utilizzeremo solo temperatura e altitudine. Ma i concetti comunque sono applicabili anche ad altri tipi di sensori analoghi. Come dicevo ho usato questo perché è molto semplice. Inoltre vorrei segnalarvi che questa libreria non fa parte di Blinka, ho dovuto scaricarla separatamente però è sempre distribuita da Adafruit che è lo stesso maintainer. Ora il primo step è quello di visualizzare i dati in un display e ho scelto di utilizzare un OLED SSD 1306 che è molto comune, è disponibile in diversi formati, questo che vedete è un 128x32, esistono anche per 64, costano meno di 10 euro, sono molto luminosi e funzionano molto bene. Poi sono supportati da diverse librerie e Blinka, ecco uno dei vantaggi che abbiamo, è una libreria che ci permette di lavorare già con questi sensori, display, con questi dispositivi esterni grazie a dei moduli già inclusi nella libreria che tra l'altro include anche moltissimi esempi da cui ho preso ispirazione. Per utilizzare il display come vedete c'è un minimo di boilerplate che è necessita di un po' di operazioni che riguardano la configurazione iniziale, il caricamento dei font, il calcolo di righe, margini e così via. Vi faccio rivedere che ci sono un po' di operazioni però nulla di complesso perché per fortuna come dicevo abbiamo a disposizione diversi esempi da cui appunto ho preso ispirazione, in realtà l'ho praticamente copiato e ho semplicemente creato poi dei metodi write e clear che mi semplificano lo script che vediamo a sinistra. Ho creato un metodo write che accetta un testo, una stringa e poi la riga del display in cui voglio visualizzare questa stringa. Quindi non faccio altro che riutilizzare quello che appunto c'è negli esempi per crearmi queste semplici e banali utility. Poi ho creato un metodo clear qualora mi servisse pulire tutto lo schermo. Ok, ad ogni modo come vedete è molto semplice, ho creato un altro script con degli helper un po' come ho fatto con il sensore della temperatura, a questo punto con oled.write scriviamo la temperatura sul display. Bene, ora abbiamo la temperatura, l'ho visualizzata sul display ma come facciamo a farli leggere da altri dispositivi o da altri device magari connessi da remoto o anche nella stessa rete locale. Quindi sia in entrambi i casi, sia in locale che in remoto potremmo usare WebSocket o il protocollo MQTT di cui però vi parlerò in altri video, vedrete ci sono delle demo molto interessanti che ho preparato. Tuttavia stavolta ho deciso di utilizzare le tecnologie Google Cloud e in particolar modo Firebase, oltre anche come vedremo dopo Spreadsheet, quindi le Google API e diverse altre cosine. Comunque Firebase che cos'è? Per farla breve offre, è una piattaforma di Google che offre diversi strumenti interessanti tra cui sistema di autenticazione, un real-time database, dei database sia in formato JSON che in formato NoSQL, che utilizzano NoSQL, storage dei dati per capirci stile Google Drive ma è molto altro. In sostanza ad uno sviluppatore front-end permette di creare un back-end senza competenze, senza alcuna conoscenza di linguaggi server-side e anche grazie ai database real-time di avere un sistema di comunicazione real-time push, un po' come le socket, a zero costo praticamente di sviluppo ma anche a zero costo di infrastruttura se non facciamo un uso intensivo e non sforiamo il piano free, il piano gratuito. Dopo aver effettuato il login sul sito di Firebase, utilizzando un account Google, creiamo un progetto Firebase. Aspettiamo un attimo dopo la creazione e arriveremo alla dashboard. Come vedete a sinistra ci sono diverse voci che riguardano autenticazione, database, quindi sia il Firestore che quello NoSQL che il real-time DB che è quello che useremo, lo storage, possiamo fare anche il deploy quindi con la funzionalità di hosting e tanto altro come anche le Cloud Function e così via. Noi adesso accediamo ad authentication. Dato che voglio gestire l'autenticazione e non voglio che chiunque possa leggere e scrivere sul database o almeno sulla porzione del database di una specifica Raspberry, creo un utente della dashboard. Esistono anche delle API per farlo eventualmente in JavaScript o con altri linguaggi ma per comodità usiamo i pulsanti in alto a destra. Utilizzerò quest'utente per connettere lo script Python a Firebase in modo sicuro. Possiamo notare inoltre che nell'ultima colonna user UID ogni utente avrà un suo indirizzo univoco, quindi un suo ID e questo ID sarà utile in futuro per identificare l'utente in maniera sicura e far sì che possa scrivere in un'unica porzione del database e non sia accessibile da altri. Ok, creiamo l'utente fbiondi77. Ora, prima ancora del ciclo while abbiamo fatto un Firebase.init un altro utility che ho creato per semplificarmi lo script che vedete a sinistra e creare degli helper. In questo caso avrei potuto utilizzare degli SDK forniti da Firebase ma visto la poca potenza di questi dispositivi ho preferito gestire Firebase e l'autenticazione sia l'autenticazione che la scrittura su database tramite REST API fornite ovviamente sempre da Firebase. Cosa faccio in questo script init? Utilizzo request di CircuitPython per fare una chiamata REST e gestire l'autenticazione chiamata REST che come vedete è composta da un endpoint che ho chiamato qua API più la mia chiave di Firebase. Dopodiché ho inserito, ho passato come dati il mio account. L'account che ho creato prima quindi con l'email fbiondi77 è la password. Ovviamente questi sono dati che sono mantenuti all'interno della Raspberry quindi possiamo anche lasciarli così visibili. Verifico subito sotto che la response contenga o meno un token nel caso non lo contenga mostro sul display a riga 1 vi ricordo che la riga 2 era stata scritta dall'OLEDWRIDE vedete qui che c'è il 2 e vado a praticamente visualizzare questo messaggio Firebase authentication failed. Nell'altro caso invece c'è un token lo scriviamo sul display che siamo connessi a Firebase e ci serviamo in un paio di variabili sia l'ID, sia il token che abbiamo acquisito che il local ID che praticamente rappresenta il famoso ID associato a quell'utente. Ci sarà utile a breve. Infatti dopo aver acquisito i dati nel ciclo while con della temperatura, pressione e così via vado a scriverli su un nodo del DB che ho chiamato BLE avrei dovuto chiamarlo BMP è un refuso comunque sia il nodo BLE conterrà l'oggetto con i dati acquisiti dal sensore della temperatura. Qui il metodo RIDE accetta una chiave la chiave è sostanzialmente il nodo JSON che scriveremo su questo real-time DB e utilizzeremo l'identificativo del progetto e scriveremo il nodo un nodo che si chiama esattamente come l'ID dell'utente poi capiremo dove ci sarà utile e qui dentro ci scriviamo semplicemente i dati i dati che sono appunto quelli del sensore. Ok. Detto questo vediamo il database cliccando su real-time DB possiamo vedere qui il nodo che abbiamo appena scritto in questo caso non combacia con quello iniziale semplicemente perché ho utilizzato un altro utente per i test comunque questo rappresenta l'ID dell'utente logato e qui dentro scriviamo il nodo BLE con i dati la cosa simpatica è che come vedete in un video ogni tot, ogni secondo qui il valore della temperatura cambia e quindi vediamo i nuovi dati. Sto mettendo il dito sopra il sensore per far variare i valori ovviamente in maniera evidente. Ora la parte interessante è che potremo avere degli altri client che quindi sono software oppure degli altri dispositivi come altre Raspberry o microcontrollori che si sottoscrivono a questo nodo rimangono in ascolto delle eventuali variazioni effettuate quindi ogni volta che scrivo dentro questo nodo ad esempio, lo abbiamo visto in precedenza, vi rimostro lo script ogni tot, ogni secondo utilizziamo il metodo write per scrivere il nodo chiamato come local ID quindi come l'ID dell'utente lo scriviamo e viene aggiornato quindi qui possiamo monitorare e gli altri dispositivi riceveranno una notifica con l'aggiornamento ma veniamo ora al motivo per il quale abbiamo scritto i dati in una cartella chiamata come l'ID dell'utente nelle regole di Firebase abbiamo la possibilità di gestire la sicurezza ovvero chi può accedere ad una cartella leggere e scrivere e qui come vediamo posso specificare che l'utente logato identificato con out.uid quindi il famoso ID dell'utente potrà leggere e scrivere solo nella sua cartella che abbiamo specificato come dollaro UID qui infatti mettiamo nelle regole che read and write possono essere effettuate solo se il nome della cartella equivale a quello dell'utente logato ok ovviamente le regole non sono sempre così semplici poi vanno a complicarsi un po' però come vedete è molto comodo per avere anche alcuni controlli su chi può fare cosa terminato con Firebase ho fatto un altro esperimento ho provato a scrivere su uno spreadsheet uno spreadsheet che ho creato sul mio account l'ho reso pubblico quindi in questo caso non gestiamo autenticazione sicurezza come prima uno spreadsheet pubblico su cui scrivo dei dati quindi cosa facciamo qui metteremo la chiave dello spreadsheet che è semplicemente parte dell'url lo possiamo copia e incollare da lì poi un array di dati ognuno degli elementi di questo array rappresenta praticamente una cella di una riga che scriveremo sullo spreadsheet quindi in una cella mettiamo la data in una temperatura pressione altitudine la nostra utility write by key accetta quindi la chiave e i valori qua viene aperto un google spreadsheet tramite la sua chiave e sul foglio 1 viene append row viene diciamo inserita una nuova riga con quei valori questi quattro che abbiamo visto tra l'altro come potete notare ho utilizzato una libreria che si chiama gspread per semplificarmi la vita che si installa semplicemente con pip install gspread direttamente nella raspberry ed ecco il risultato qui diamo lo spreadsheet e ogni secondo qua vedremo un nuovo valore acquisito quindi con la data temperatura altitudine vabbè la pressione l'ho tolta perché come detto in questa demo avevo ancora qualche problemino sui calcoli dei valori bene ultimo test che ho fatto è con una raspberry camera costa circa 10 euro si connette la raspberry tramite questa fascia un connettore quindi non potete sbagliare c'è un unico connettore sulla rasp dove potete inserire questa fascia ora qui sotto vediamo un ultimo utility che è take snapshot nella quale ho fatto due operazioni in realtà inizializzo la camera e firebase tramite un'altra libreria che ho installato esternamente questa non fa parte di blink si chiama pyrebase una libreria per python che mi significa il processo di autenticazione con firebase e anche di sfruttare alcune delle sue funzionalità questa configurazione di firebase si può acquisire e copia e incollare dalla dashboard di firebase quindi quei pannelli che abbiamo visto prima quindi non dovete inventarvi nulla avrete quindi un API key un project ID e così via inizializziamo firebase con questa configurazione inizializziamo quindi lo storage e la telecamera la camera la settiamo a una risoluzione bassa per non pesare troppo e la nostra utility take snapshot non fa nient'altro che tramite l'utility camera catturiamo l'immagine che poi ridimensioniamo 320x240 e associamo il nome fu.jpeg questo fu.jpeg è salvato sulla raspberry è un file fisico che salviamo nella stessa cartella in cui si trova questo script poi tramite storage andiamo a definire che vogliamo scrivere un'immagine che si chiama fu.saved e quali immagini vogliamo metterci all'interno quella che abbiamo appena salvato qui potremmo mettere il path per capirci ad un'immagine della raspberry davvero semplice quello che accadrà è che nella sezione storage di firebase della dashboard di firebase ci troveremo l'immagine fu.saved che sarà aggiornata ogni secondo con il mio faccione o con quello che comunque sta visualizzando la telecamera questa immagine tra l'altro ha un url che possiamo anche recuperare cliccando sull'immagine quello che faremo adesso è in angular recuperare l'url di questa immagine e visualizzarlo in una dashboard in modo ripetuto diciamo continuo ogni secondo utilizzando anche un banale polling ovviamente potremo utilizzare delle tecniche più sofisticate migliori più performanti però per il momento ai fini didattici va bene così e infatti vedremo ora come acquisire questi dati da angular e li visualizzeremo in una dashboard la stessa procedura potrebbe essere utilizzata in vanilla javascript in react view e così via ma in questo caso utilizzerò delle librerie esterne per angular e firebase che mi semplificano di molto la vita comunque le differenze non sono moltissime iniziamo ad acquisire i dati da google spreadsheet che contiene tutto lo storico delle temperature altitudine e della data quindi in cui sono state acquisite premetto che questa parte richiederebbe un video a sé o addirittura una playlist o un video corso per essere descritta con calma però spero che sia semplicemente anche in questo caso di ispirazione ad ogni modo nel primo blocco di codice del costruttore di un componente angular vado a inizializzare anzi ad assicurarmi che la libreria google api sia caricata inizializzo con le mie api un api che ho dovuto creare dal pannello di controllo di google semplicemente andando sull'api sulla documentazione dell'api di google spreadsheet trovate le indicazioni per crearla e tutto questo script dopodiché sono caricate queste api e andiamo al termine di questa inizializzazione a chiamare un mio metodo get data in questo get data io avrò a disposizione finalmente le api la certezza che siano disponibili e posso utilizzare per esempio l'api relativa agli sheets quindi al mio spreadsheet prendiamo semplicemente con il metodo get i valori del range ad ovvero le colonne dalla a alla d specifichiamo ovviamente in quale documento andare ad acquisire questi dati qui quando questi dati sono ricevuti e disponibili li salviamo all'interno di una proprietà del componente che si chiama data questo data conterrà quindi un array di valori quindi un array di tutti i valori acquisiti dal sensore che visualizzeremo in questa tabella come in angular utilizzo un ng4 per ciclare su tutti i valori del nostro oggetto data e creeremo come vedete dtr dinamicamente con tutti questi valori data temperatura pressione se ci fosse altitudine anzi qua li ho invertiti mi sono accorto adesso c'è un punto in errorino questa sarebbe l'altitudine ovviamente in react potremmo usare un map in view un v4 e così via oppure una pend di vanilla javascript comunque creiamo questa tabellina con i valori acquisiti bene qui vediamo invece il login su firebase che appunto gestisce anche come abbiamo visto prima la parte di autenticazione diciamo e sicurezza abbiamo login e un logout al login mostriamo i dati quindi la mia email temperatura attuale e altitudine e anche il mio faccione poi quando siamo stufi possiamo fare il logout vi ricordo che al login acquisiamo l'uid dell'utente quindi su codice identificativo che utilizzeremo nel nostro codice angular infatti in angular ho installato una libreria che si chiama angular fire che mi fornisce diversi servizi che possiamo iniettare in un componente in un servizio e così via abbiamo dei servizi che riguardano l'autenticazione l'accesso al database allo storage e molto altro la prima operazione che faremo dal template html è invocare il login e poi successivamente il logout il login ha un metodo tramite i servizi out sign in with email and password in cui inseriamo username e password che ho utilizzato in precedenza anche nella raspberry e che ho creato nel mio pannello authentication di firebase dopodiché sottoscriviamo l'utente logato quando esiste appunto res quindi quando abbiamo un utente logato possiamo recuperare anche lo uid questo uid vi ricordo che è il nodo che ho utilizzato per scrivere le informazioni su realtime db quindi cosa facciamo attraverso il servizio db quindi angular fire database andiamo a sottoscrivere l'oggetto che ha questo nome quindi l'uid dell'utente ci fornisce un observable value changes che possiamo sottoscrivere e recuperiamo da questo oggetto tutte le informazioni in realtime ogni volta che arrivano quindi temperatura altitudine e così via le scrivono una proprietà data della mia classe per acquisire l'immagine della webcam avendo scritto il file sempre nella stessa location di firebase storage è sufficiente un banale polling in cui andremo semplicemente a recuperare l'indirizzo una reference delle nostre immagini attraverso il metodo ref from url fornito da angular fire storage passiamo l'url dell'immagine recuperiamo la reference e ogni secondo semplicemente andiamo ad scrivere la proprietà url della nostra classe passando l'indirizzo quindi la reference al nostro file e un matrandom che è semplicemente un trick per fare in modo che poi il template di angular si accorga che c'è una differenza dell'immagine renderizzi la novità altrimenti renderizzerebbe sempre la stessa immagine bene dove utilizziamo quindi data e url nella famosa dashboard che avete visto prima qui utilizziamo un po' di codice drx.js un po' di angular fire un po' diciamo di trick per angular però comunque sia ogni framework o ogni libreria potrebbe usare proprio un approccio comunque simile a questo utilizzando ovviamente le proprie caratteristiche in questo caso cosa facciamo renderizziamo questo div se abbiamo un utente logato e in caso alternativo mostriamo invece il blocco show login che semplicemente era il titolo con un pulsante login che invoca questo metodo una volta logati l'oggetto out user viene popolato quindi mostriamo questo blocco di codice dove semplicemente scriviamo hello e il nome dell'utente e scusatemi l'email dell'utente poi recuperiamo da data questo che viene aggiornato ogni qualvolta ci sono delle diciamo degli update su questo nodo e andiamo a prendere il nodo ble punto temp qua usiamo dei formatter di angola per formatare semplicemente i numeri l'immagine quindi della webcam invece acquisirà l'url e usiamo questo trick del matrandom proprio per far aggiornare sempre questa immagine che altrimenti invece avendo la stessa stringa per l'url non verrebbe rirenderizzata nuovamente un pulsante logout che semplicemente invoca questo questo metodo l'utente verrà slogato e di conseguenza al click di questo pulsante visualizzeremo di nuovo il blocco show login ecco tutto ovviamente i concetti che abbiamo affrontato in questo video sono sono moltissimi ognuno dei quali ha richiesto comunque diverse giornate per me per essere comunque compreso e studiato e spero comunque che sia stata un'utile introduzione al mondo raspberry alla comunicazione via appunto google cloud e che possa esservi utile per futuri progetti semplici esperimenti e così via può essere anche un buon modo per insegnare ai bambini comunque ai ragazzi a programmare questo perché invece di utilizzare un semplice print nella console chiaramente andare a giocare con dell'hardware è sicuramente più entusiasmante direi che anche per questo video è tutto seguitemi su twitch se ancora non lo fate perché molti di questi video che trovate sul canale youtube sono frutto di molte sperimentazioni gaff errori sul mio canale twitch e come sempre mi trovate su tutti i social vi invito a seguirmi anche su instagram dove pubblico adesso molte foto degli eventi quando ci sono e su linkedin per tutte le news su quello che faccio bene direi che è tutto veramente ci vediamo al prossimo video